Buongiorno professore ma come si prevede scusi se lei è venuto fin qui per propormi di nuovo il resto ce ne ha perduto il suo tempo e soprattutto l'ha fatto pendere a me beh mi sta offendendo dottore no è lei che offende me e ora esca se ne vada io ho già 35 anni non la prendo più la pillola ci vuole un po di tempo fino a sabato non posso fare niente fidati cazzo il nome del popolo italiano il giudice ha visto l'articolo 530